Anche quest'anno abbiamo di nuovo organizzato insieme al Proveditorato, anzi è il Proveditorato che ha dato il suo beneplacito a effettuare un ciclo di lezioni, conferenze, relazioni sulla educazione civica nelle scuole superiori di tutta la provincia di Arezzo. I personaggi della società civile una volta al mese in otto scuole superiori della provincia di Arezzo tengono una relazione su un argomento inerente all'educazione civica che questo personaggio conosce molto bene. La prima di queste conferenze e lezioni è tenuta dove siamo adesso, cioè a Rondine, e il relatore è il professor Franco Vaccari, che parlerà di un argomento quanto mai attuale, cioè l'articolo 11 della Costituzione, in sintesi l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'organizzazione di tutte queste conferenze, lezioni, relazioni, come lo chiamate, non sono io, ma è la professoressa Maria Pia Nannini che è qui accanto a me. Il riscontro è stato estremamente positivo, anche perché queste conferenze, oltre a integrare i lavori che singolarmente le scuole organizzano per l'educazione civica, tocca ambiti come la sociologia, l'antropologia, per cui è un arricchimento reale, tanto che abbiamo avuto anche molte scuole che si sarebbero ulteriormente inserite. Vediamo per il prossimo anno se abbiamo questo riscontro positivo anche quest'anno, se continuare l'attività che sembra avere un alto gradimento. Con gli studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Arezzo affrontiamo il tema della Costituzione nel suo articolo 11, dove l'Italia ripudia la guerra. Cercheremo di farglielo vedere, sentire, provare attraverso il rimbalzo dei giovani di Rondine che vengono ai luoghi dove la guerra non si spenge, anzi si infiamma. E per capire quella parola ripudia che valore contiene, un valore etico, un valore giuridico, un valore politico e speriamo anche di far riaffiorare la bellezza e la forza della nostra Costituzione. L'attualità è come ciascuno dei ragazzi e la scuola in primis possono continuare a renderla viva e efficace nella nostra società.